Care future mamme, uno dei miei rarissimi brindisi analcolici lo dedico a voi. Il mondo è un giro di boa e le vostre figlie e i vostri figli dovranno prenderlo per mano e accompagnarlo. Ma prima di farlo ricordatevi che saranno le vostre mani a essere il loro primo mondo. Mani sempre dolci e amorevoli, a volte decise, a volte forse dubbiose, ma sempre presenti, sempre. Le vostre mani saranno la prima porta verso il vero mondo. Non dimenticatelo mai. Anche quando in molti, troppi, vi diranno che è un compito impossibile, una causa persa. Vi diranno che le generazioni future sono fallite in partenza, perché è più facile distruggere che costruire. Devono ancora capire che la forza di una vera mamma è infinita e non conosce la parola impossibile. Questa forza la chiamano amore, ma c'è chi non può capire. Un brindisi a voi. Ce la farete tutte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.